Il conto alla rovescia è cominciato e continua, inesorabile. I tifosi bianco-verdi scalpitano in attesa di vedere finalmente i lupi in campo, Domenica, un'attesa estenuante e complicata a gestire anche per i muscoli e per la testa dei calciatori, con il grosso rischio di rilassarsi troppo o, al contrario, arrivare carichi sulle gambe ad un appuntamento decisivo. È per questo che Bralia in questi giorni sta gestendo le forze dei suoi e Domenica li ha fatti sgambettare in amichevole per non perdere il ritmo della gara. Ma ora c'è anche da pensare al campo, alla prestazione ed ovviamente alla formazione. Ma non ci saranno esperimenti da fare, ma solo equilibri da ritrovare per non steccare. Innanzitutto si parterà dall'organizzazione extra calcio. Il Green Park dovrebbe essere la casa dei lupi fino al 16 giugno, un modo per tenere unito il gruppo e tenere fuori lo spettro del Covid. Poi si passerà agli schemi. Fellemaniero in attacco dovrebbero rappresentare una certezza, ma nell'ottica del turnover tanto caro a Braglia, e date le partite ravvicinate, ci potrebbe essere qualche alternanza. Dossena a gioco forza dovrà fare le veci di Miceli squalificato, con Ciancio pronto ad adattarsi tra la difesa e il centrocampo. Ovviamente bisognerà contare indistintamente su tutti i giovanissimi e senatori, a partire però proprio da questi ultimi. Certamente le nuove leve Enrico, Adamo e Dossena su tutti potranno e dovranno mettersi in mostra, ma dovranno essere i vari fella Maniero e Laizia a far capire quanto sia importante sbancare questa lotteria per riscattare il finale di campionato e proiettarsi ad un futuro decisamente più roseo. Laizia a far capire